Benvenuti ad una nuova edizione di Calabria News 24, informa, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, commenta l'incontro con i sindacati sulla programmazione 2014-2020. Ha commentato con grande soddisfazione la riunione con i sindacati, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, tema dell'incontro la programmazione 2014-2020. Siamo entrati nella fase operativa, ha detto Oliverio, e dobbiamo essere bravi a coordinare tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo, POR, FESER, PAC ed accordi quadro, attraverso una visione chiara ed una conduzione unitaria, proprio per non disperdere le risorse e i mille rivoli. Stiamo tentando di costruire un percorso normale della vita della Calabria, questo presuppone un concorso attivo di responsabilità e sollecitazioni costanti. Metterci sul binario giusto era un passaggio cruciale, adesso ci sono dei piccoli segnali di inversione rispetto al passato che, se sostenuti, possono diventare strutturali. Il settore agroalimentare, ad esempio, rappresenta uno di questi, in tal senso dobbiamo sfruttare maggiormente alcune filiere e concentrare le risorse per esprimere al meglio tutto il nostro potenziale. Ciò genererà ricaduto occupazionale, a concluso l'Iverio, ed una dimensione economica più solida. Si è discusso delle problematiche del settore alla prima assemblea di Feder Preziosi Confcommercio a Cosenza. La nascita a Cosenza di Feder Preziosi Confcommercio e l'elezione di Anna Perri nel ruolo di presidente di quella che è la federazione delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie, è stata un'occasione di incontro importante per gli operatori del settore. Un momento di confronto svoltosi alla presenza di Steven Tranquilli, direttore generale di Feder Preziosi, al centro del dibattito, le opportunità ma anche le problematiche del settore. Sicuramente un rilancio della figura del gioielliere, il gioielliere con la G maiuscola. Devo dire che il passaggio che abbiamo avviato oggi nella costituzione di un gruppo di operatori che si riconosce all'interno della famiglia Confcommercio come Feder Preziosi Cosenza è un passaggio significativo. Pensiamo nelle prossime settimane di avviare un documento programmatico dal quale poi far partire una serie di iniziative tese ovviamente alla conoscenza, a fornire dei dati di formazione e di conoscenza del prodotto orafo. Tutto questo ovviamente organizzato insieme a questo gruppo di operatori che si riconosce all'interno di un'associazione di categoria. Crediamo che sia fondamentale per l'operatore stesso il confronto di idee e di iniziative, passi a pensare a tutte le novità in campo gemologico che ovviamente arrivano ogni settimana da quelli che sono i famosi laboratori gemologici presenti sia nel nostro paese che all'estero. Ed è molto importante che gli operatori abbiano queste conoscenze e come poterlo fare in una casa che è quella di Confcommercio dedicata esclusivamente alla formazione. E questo credo che per noi sia molto importante. È importante, ripeto, per gli operatori ma anche per il cliente finale. A Vibo Valencia, con grande entusiasmo, riapre la biblioteca comunale. Riapre ufficialmente la biblioteca comunale di Vibo Valencia, chiusa in un primo momento per problemi infrastrutturali, quindi inserita nei beni comunali alienabili, e poi oggetto di un vibrante e accorato movimento anti-chiusura formato da cittadini vibonesi e associazioni, tutti convinti che un bene così prezioso non dovesse andare perduto. È un momento molto importante anche perché pensavamo di non potercela fare, perché abbiamo trovato veramente in condizioni indescrivibili lo stato dei luoghi e soprattutto la situazione che esisteva qui. Era un immobile che doveva essere dismesso, si trattava di un immobile che doveva essere venduto, senza pensare alla storia che ha dietro di sé quest'immobile, senza pensare ai numerosi ragazzi che hanno studiato in questo immobile e senza pensare al legame che esisteva tra quest'immobile e la città. Noi abbiamo fatto degli sforzi sovrumani per poterci riuscire e ce l'abbiamo fatta. Il fatto che tanti cittadini si siano resi disponibili e abbiano dato una mano perché la biblioteca non chiudesse è particolarmente significativo. Sì, c'è stato un movimento spontaneo da parte di tanti cittadini, ma anche e soprattutto da parte dell'isola che non c'è, che ci ha aiutato, ci ha aiutato tanto, ma soprattutto i ragazzi dell'isola che non c'è, ai quali va il mio più affettuoso abbraccio, il mio più affettuoso ringraziamento. Sono ragazzi disabili, ma che hanno una capacità di dialogo e una capacità di sentire e soprattutto una capacità di amare che nessun essere normale riesce ad avere. Veramente questi ragazzi hanno una sensibilità diversa e soprattutto hanno questa passione e quest'amore nei confronti degli altri e nei confronti della città. Per questo io sarò sempre loro grato. L'inaugurazione, impreziosita dalla relazione e dalle collezioni di Raniero Pacetti, dagli interventi dell'editore Florindo Rubettino, dell'ex assessore regionale della cultura Mario Caligiuri e dall'esibazione di un valente giovane pianista, Francesco Pagnotta, è stata anche l'occasione per presentare tutte quelle che d'ora in poi saranno le iniziative che verranno intraprese per rendere vivo questo luogo. Ora si ricomincia, anche perché abbiamo intenzione non soltanto di lasciare un immobile che non abbia una sua vita, una sua vitalità. Noi abbiamo intenzione di creare all'interno di questa struttura una serie di laboratori in maniera tale da rivitalizzare la biblioteca comunale di Vipo Valenzia con la partecipazione di tanti giovani che sono appassionati di teatro, che sono appassionati di musica, di restauro, di tante componenti che alla fine finiscono per, come dire, per costituire il patrimonio culturale di una struttura che incomincia a risorgere. A Cosenza una serata per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto, dove ci sarà un ospite d'eccezione, Carlo Verdone. Il mondo del cinema e dello spettacolo si è sempre mobilitato in occasioni drammatiche, come può essere ad esempio un terremoto. Accade anche in questa occasione e anche in Calabria, precisamente a Cosenza. Raccogliere fondi per le popolazioni del centro Italia colpite dalla sisma è infatti l'obiettivo di un'iniziativa di solidarietà che si terrà il 16 dicembre alle ore 20 presso il cinema Citrigno di Cosenza. Si tratta della seconda edizione di Cine Incontriamoci, caratterizzata dalla presenza di un ospite di grande prestigio, ovvero Carlo Verdone. Un'iniziativa dunque importante, supportata dal presidente della Calabria Film Commission, Pino Citrigno, ma anche dall'amministrazione comunale di Acre e Cosenza e da alcune associazioni. Nel corso della serata è previsto un omaggio musicale al cinema di Verdone, eseguito dai maestri Danilo Guido ed Angelo Caccione e la proiezione del docufilm Carlo. I biglietti per partecipare alla serata sono in vendita al costo di 5 euro presso il cinema Citrigno. E ora la palla a nuoto. Dopo un inizio di campionato difficile, le ragazze del Cosenza sfidano Milano. Sembra un campionato spezzato in due con le prime cinque in tre punti e le ultime cinque in quattro. Parliamo del campionato di palla a nuoto femminile di A1 che vede impegnato un Cosenza che ha iniziato male la stagione. Le attese erano ben diverse ed il bilancio attualmente parla di una sola vittoria in cinque partite, ottenuta tra l'altro in trasferta contro Pescara, unica squadra a quota zero. La formazione di coach Capanna è riduce della sconfitta in casa di Padova, campione d'Italia in carica. Un match difficile, letteralmente dominato alle Venete, che il Cosenza ora dovrà mettere da parte e pensare alla gara casalinga di sabato, alla ricerca della prima vittoria davanti al proprio pubblico. A Cosenza arriva Milano, altra squadra che staziona nelle zone basse della classifica con quattro punti, uno in più delle calabresi. I tre punti servirebbero non solo per ragione di classifica, ma anche per dare fiducia ad un gruppo partito a inizio campionato con aspettative molto diverse. Il campionato comunque è solo all'inizio, ma perdere posizioni potrebbe compromettere il resto della stagione. Rientriamo in studio dove nel frattempo ci ha raggiunto il professore Giancarlo Costabile, docente unica di storia dell'educazione alla democrazia. Benvenuto professore. Ben trovati. Ecco, parliamo di un incontro importante che si è svolto ieri all'Università della Calabria, il settantesimo seminario di questo progetto scientifico didattico che è appunto Pedagogia della Resistenza. E tra gli altri c'è stato un relatore molto importante che è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Com'è andata? Allora è andata particolarmente bene. Senza enfasi, ieri 500 persone, studenti e non, hanno accolto il sindaco di Napoli, che è una delle grandi icone della rinascita del Mezzogiorno. ha onorato con la sua storia, con il suo intervento, la nostra Università, celebrando anche questo nostro piccolo risultato del settantesimo seminario. Il nostro progetto nasce il 23 di maggio del 2011 simbolicamente. È il sesto anno, professore. È il sesto anno e il settantesimo seminario al quale dobbiamo aggiungere i 15 laboratori all'aperto che abbiamo fatto in questi sei anni di lavoro da Scampia a Palermo, dalla Piana di Gioia Tauro a San Luca, ovviamente non trascurando le periferie della nostra città. È bene che i nostri telespettatori sappiano che per queste 85 iniziative che Pedagogia della Resistenza ha, diciamo, realizzato in questi anni, ecco, noi non abbiamo chiesto un euro di denaro pubblico. Tutto si basa sulla militanza. Per un principio molto semplice, quando si fa antimafia, ecco, l'idea chiave è che la parola che libera non può essere quella pagata. Ecco, a noi non interessa saccheggiare l'erario pubblico per pagare cene, convegni, settimane bianche della legalità, sciate della legalità, navi della legalità. A noi interessa dimostrare concretamente la forza dell'esempio, la forza della testimonianza, la forza della pedagogia come strumento di cambiamento. Luigi De Magistris... Quindi verso proprio il riscatto del meridione, ovviamente. Verso il riscatto del meridione. De Magistris è uno delle grandi figure. Ieri era accompagnato anche dagli amici, dai compagni di lotta di resistenza anti-camorra, guidati da Ciro Corona, con il quale e con i quali abbiamo costruito negli ultimi due anni questo soggetto scientifico, culturale, pedagogico, non c'entra nulla, diciamo, la politica. Che è una vera rivoluzione, professore, in realtà. Che è una rivoluzione, si chiama resistenze meridionali, che ha una finalità, quello di promuovere dal basso, senza toccare il denaro pubblico, una nuova idea di partecipazione civile, democratica, un nuovo modello di mezzogiorno. Non più il mezzogiorno silente, non più il mezzogiorno piegato, non più il mezzogiorno asservito, colonizzato, ma il mezzogiorno che si riprenda attraverso l'orgoglio e l'identità il proprio ruolo nella storia nazionale, europea e possibilmente mondiale. Un Sud finalmente protagonista. E per far questo non ci servono mercanti di libri, non ci servono mercenari dell'antimafia, ci serve ragione, cuore e passione civile. E paradossalmente l'università nella quale crediamo può rappresentare realmente un vettore di cambiamento. Grazie professore, grazie come sempre per i suoi interventi così appassionati. In bocca al lupo e buon lavoro. Bene, noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Calabria News24 Informa. Grazie, a più tardi.